Nelle prossime settimane il Consiglio regionale sarà chiamato a varare la nuova legge urbanistica, un provvedimento che sta suscitando un ampio dibattito sia all'interno della maggioranza di centrosinistra che sostiene la giunta Pigliaro in cui le posizioni sono variegate, che in seno all'opposizione centrodestra. Appelli a modificare la norma in senso restrittivo sono arrivate dalle associazioni ambientaliste che temono una nuova colata di cemento sulle coste sarde. Nel dibattito in atto interviene con la nota il Consigliere regionale di Forza Italia, il sindaco di Golfo Aranci Giuseppe Fasolino. Non si ingessi la legge con una visione ideologica del territorio, momificando e mortificando lo sviluppo economico, sottolinea nella nota l'esponente all'opposizione. È in dubbio che la Sardegna abbia necessità di un riordino della legge urbanistica, ma questo disegno deve partire da obiettivi concreti, con un provvedimento che possa dare risposta agli imprenditori e alle attività produttive nel rispetto dell'ambiente, rimarca Fasolino, che è anche componente della Commissione Governo del Territorio. Abbiamo l'opportunità di un disegno di legge che possa restituire l'infa vitale all'economia con un modello che dia la giusta importanza al mercato internazionale del turismo, rendendo gli alberghi competitivi e concorrenziali con la platea dei resort mondiali. Se è chiaro, aggiunge l'esponente forzista, nel testo si deve trovare un equilibrio tra ambiente ed edilizia, ma non possiamo negare che questa legge apra nuovi sbocchi per allungare la stagione turistica con la possibile realizzazione dei campi da golf. Lo sviluppo deve declinare anche il riconoscimento del ruolo dei comuni, conclude Fasolino, che devono essere dei primi attori nel delineare le linee future dell'edilizia.